Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gemma Gamer Oggi siamo qui in un nuovo video su Rainbow Six Siege come sempre Ero in lobby con Dave che saluto, il mio compagno di team E stavo facendo una partita così a random in ranked E' solo che ho voluto portarvi proprio questo match Perché stavamo perdendo la bellezza di 3 round a 1 E poi abbiamo fatto una remontata lasciando i nemici a 3 e vincendo noi a 5 Quindi è una partita di tutto rispetto, anche il punteggio mio è andato bene Quindi ho voluto condividerla con voi Spero che vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate E ci si becca al prossimo video, buona visione dal vostro Gemma Gamer Ho beccato un confetto al caffè Dica stai avendo uno dove sto io E tu dove stai eh Fica a te Fica a te Fica a te Vai a terra, vai a terra, vai a terra Due ce ne sono Aaaaaah Davide dietro Oh sto a terra, bastardo Ti ho salvato, lo sai Save Stai con il bastardo di Thermite che è mortato Vai, 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 vai Ancora uno, ancora uno Bella, baste, ormai lo sanno che stai Wow Fa la tripla, easy E se davide che è per il punto strategico Ciao Oh 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 Grazie a tutti Ok ho giocato da solo questo round Oh che brutta fine Bello Madonna Bellissimo Guarda guarda non è mia la killcam Ci ho saputo fare Don't not reanimate Se non lo reanimiamo vinciamo noi Per i Mandoff c'è uno nel trappolone Un altro Due nel trappolone No uno nel trappolone Assis Ottimo Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici E dodici E dodici Dio Detra il vetro Il bielo Detra il vetro Associdendo io col drone Vai via Vai via Gli ho tolto mezza vita con Twitch Andi Vai Oh dove l'hai fatta i 3 kill? Come 3 kill? Stavano 2 kill 2? E ho ucciso a Buck appena sono entrato E poi Mira Però a Mira gli ho tolto tipo 60 punti vita Solo di drone We can break up out the Typhoon Typhoon